Non sei curioso di sapere chi è tuo padre? Erwan Gourmelon, solido artificiere bretone, scopre di non essere figlio di suo padre. Decide così di ritrovare il genitore biologico. Nella ricerca incontra Anna, veterinaria che lo corteggia e si lascia corteggiare. Ma Anna è figlia dell'uomo che la sua investigatrice ha individuato come suo padre. Dopo aver osservato Le Madri, Karine Tardieu realizza un film melancomico sulla paternità. Commedia sentimentale sullo sfondo di un imbroglio identitario, toglimi un dubbio, moltiplica i colpi di scena e sottomette la legge del sangue alla logica della fatalità. Mischiando i generi e giocando coi codici classici, il film rimane in perfetto equilibrio tra dramma e commedia. Un'opera starripante d'amore che invita a guardare i padri con più indulgenza. Un'opera starripante di un'opera starripante di un'opera starripante.